Ciao a tutti, bentornati a questo penultimo episodio di questa mia descrizione piena di curiosità e anche un po' recensione, un po' narrazione di quello che è stato il capitolo settimanale della serie tv di Mandalorian arrivata alla sua seconda stagione. Siamo indirittura d'arrivo, venerdì prossimo ci sarà il capitolo 16 che chiuderà questa seconda stagione. Episodio sorprendente, giusto per cambiare, sotto diversi punti di vista, ma uno dei punti più importanti di questa mia sorpresa è stato che in realtà mi aspettavo una sorta di finale a due episodi, parte 1 parte 2, in realtà questo è un episodio che ci porta alla chiusura ma in realtà è un episodio a sé stante. Probabilmente uno dei capitoli più intensi, con una bella metafora dietro, con qualcosa da raccontare e che ci mette in una posizione un po' scomoda e ci fa anche gazare in questa posizione scomoda il tutto senza che ce ne rendiamo conto e secondo me questo è un grandissimo pregio. Ma arriviamo un po' alla ciccia, innanzitutto vi chiedo ancora scusa per questo enorme ritardo ma è stato un venerdì un po' particolare, abbiate pazienza soprattutto il giovedì notte Disney, Star Wars, Marvel mi ha sbarallato, ho fatto le tre e mezza con la bocca spalancata, per cui abbiate pazienza, siamo arrivati un po' in ritardo, lo so, probabilmente l'avrete anche già visto meglio perché questa come questa solita descrizione, questo mio appuntamento settimanale è spoiler, per cui spoiler vado dritto perché faccio fatica. Faccio un'altra premessina che non sarà così piena di curiosità perché essendo un fine settimana ribadisco molto complicato non solo per quello che riguarda la parte divertente ma anche per il resto della mia vita, il mio lavoro, i miei progetti è stato un periodo un po' così per cui non ho ancora avuto modo di scavare dietro quello che vediamo, dietro i fotogrammi facendo stop, cercando di capire un po' per cui sarà un po' superficiale, abbiate pazienza. Comunque il titolo è Il Vendicatore, subito speravo che riguardassi Boba Fett, in realtà Boba Fett ha un bel ruolo ma è marginale perché il protagonista è un altro, torna a essere in pompa magna il mandaloriano accompagnato da una enorme sorpresa, sempre per quello che riguarda il sottoscritto, che non mi aspettavo altrimenti non sarebbe una sorpresa. In pratica Max Mayfield, personaggio molto antipatico e anche tra virgolette non così interessante che abbiamo visto nel capitolo 6 nella prima stagione, si rivela essere uno dei personaggi più interessanti, più profondi, più strutturati, meglio scritti secondo me dell'intera serie tv e in questo episodio lo fa assolutamente da mattatore, è il mattatore assoluto insieme al mando che recupera parecchi punti in questi ultimi capitoli in cui è stato un po' a servizio dei nuovi personaggi, vedi Boba Fett, vedi Bo-Katan, vedi Ahsoka e vedi 100. Cosa succede? Succede che fortunatamente con mia grande gioia la puntata non verte sulla liberazione di Mayfield ma parte per un'altra missione, ovvero perché lui cerca Mayfield era abbastanza scontato, perché è l'unico imperiale che conosce che può aiutarlo a scovare le coordinate della nave di Gideon, per cui lo vanno a liberare in maniera legale perché Cara Dune è uno sceriffo ufficiale della nuova repubblica, lo va a liberare, non si sa come abbia fatto però c'è riuscita, probabilmente con l'aiuto anche di Carson Tiva, del capitano Carson Tiva, va in questo meraviglioso pianeta, i campi di, non mi ricordo, Kelson Bridge, non mi ricordo bene esattamente, abbiate pazienza ma la mia memoria sta andando un po' a puttana, visto questa vagonata di informazioni che mi arrivano in continuazione, arriviamo su questo pianeta di scarica in cui ci sono i detenuti che smantellano TIE Fighter, ATST, U-Wing con queste mega torri, con queste gru sempre tipo quadropodi, insomma l'ambientazione assolutamente familiare, ruggine e appalate, viene preso da Cara Dune e viene coinvolto in questa piccola banda fantastica che è Fennec Shand, Cara Dune, il Mandaloriano e un Boba Fett che nel frattempo ha recuperato il suo blaster, ha rivisitato il blaster storico di Return of the Jedi e non dell'Impero Colpisci Ancora, se avete un po' l'occhio o se non l'avete recuperate l'Impero Colpisci Ancora e il Ritorno delle Jedi vi accorgerete che i due costume sono diversi, non tantissimo diversi ma molto diversi sì e per cui questo Boba Fett ha i colori, ha la particularità che logicamente è sequenziale al Ritorno delle Jedi, per cui lui rivernicia completamente l'armatura, la vediamo comunque che è sotto e scrausa, non la vernicia perfettamente, questa cosa mi è piaciuta molto, ha di nuovo il suo blaster, ha sempre questo gonnellone che credo sia un po' il mantello che si porta sotto, il trucco è decisamente migliore quando si toglie il casco, lo vediamo bello, migliore, insomma in tutta questa puntata sembra che sia tornato un po' ai fasti della produzione estetica e visiva delle altre puntate, perché nella penultima puntata abbiamo visto questo grande cambiamento, questo grande abbassamento di budget, è una cosa sostenuta da tantissimi, mentre qui si torna di nuovo in un prodotto decisamente sopra le aspettative se vogliamo, perché di base è molto cinematico, in questo caso vediamo anche quando è dentro questa discarica, troviamo un alieno, questo alieno l'abbiamo già visto in The Force Awakens e soprattutto probabilmente, dovrò andare a verificare sempre nella mia disamina della settimana scorsa che trovate su Impira.it, è uno degli alieni che vediamo nella lista dell'infinita dei detenuti che ci mostra Caravione, molto bene, andiamo oltre, salgono su questa bellissima Slave 1, vediamo finalmente l'interno della Slave 1 quando decolla e per chi ha i set Lego e per chi ha i modellini fisici capisce di cosa parlo, perché è un dettaglio che non si era mai visto e non si era mai capito a livello visivo cinematografico, cioè la Slave 1 parte in modello ferro da stiro o lampione, come si diceva, e si mette in verticale e parte. Cosa succede però? Perché la plancia in pratica, in questo modo qui, ha il fondo insieme al fondo dell'astronave, quando decolla fa questa cosa qui, ok? Rotea per mettersi dritta, ok? Ecco, nei modellini era già così, nel Lego era già così, insomma in tutta la parte giocosa, tattile in cui possiamo scavare all'interno della Slave 1 si sapeva già questa cosa, nei film non si era mai visto, qui la vediamo dall'interno in tutto il suo splendore ed è veramente molto bello, è un bellissimo set, forse uno dei più bei set che abbiamo visto fino ad ora. Partono e si va, si va nello spazio e Mayfield comincia a spiegare che guarda io non so esattamente dov'è ma so come fare, bisogna trovare questo scanner particolare, bisogna infilarci una chiave, il cold cilindro, il cilindro gerarchico, posso aiutarvi, posso arrivare, posso sapervi dire dov'è si trova Gideon. Prima vuole dire di no, adesso non sto a parlare nel dettaglio ma cerchiamo di arrivare al punto. Per cui vanno su questo nuovo pianeta che si chiama Morak, molto interessante, un pianeta boscoso che ricorda molto l'Equatore, i paesi tropicali con tutte queste montagne, molto se vogliamo anche un po' Indiana Jones e ci sono diversi riferimenti a Indiana Jones, anche a Mad Max o a Inglorious Basterds, maloriginale, Bastardi senza gloria, Tarantino, Rogue One, è un po' il mistone di tutti questi film e rende la puntata assolutamente memorabile. Arrivano, cominciano a vedere questi Juggernaut, non so se vi ricordate ma il Juggernaut è questa sorta di predecessore della TAT dotato di ruote gigantesco, lo abbiamo visto nella serie TV The Clone Wars, nel cartone animato, non mi ricordo se l'abbiamo visto anche di straforo in Revenge of the Sith, l'abbiamo visto sicuramente in Rogue One quando sono nella prigione dove vanno a liberare G-Nerso. Una versione molto più piccola, molto figa, una sorta di auto articolato molto particolare, che trasportano il ridonio, il ridonio è una, praticamente è una sorta di carburante, è un liquido che viene usato anche per il carburante, diciamo che è un alternativo al coassio più o meno, devo ancora studiarlo, poi comunque parliamo di materiali molto volatili, l'abbiamo già visto nella serie Rebels in alcuni bariloni rossi e questi bariloni che vediamo ricordano tantissimo quelli del coassio ancora da stabilizzare, ma sono rossi, molto simili, probabilmente anche questo è un grande riferimento al film solo. Vedono, cercano di capire come funziona per decidere come assaltare questo treno, ed è molto western, molto Indiana Jones, molto bastardi senza gloria l'originale, si mettono d'accordo, fanno una serie di discorsi molto divertenti e alla fine decide di andare in Mandaloriano. Qual è il conflitto di questa cosa qui? Che per andare in Mandaloriano dovrebbe farvi del volto, cosa che lui non vuole assolutamente. Max Mayfield glielo dice, non puoi venire te perché se diventano con l'armatura mandaloriana è un bordello. Detto questo vediamo il dettaglio, ci fa capire la regia che lui sta guardando per capire se può coprirsi il volto e vede all'interno due assaltatori, per cui vedendo poi quello che succede dopo capiamo che lui potrà indossare un elmo di un assaltatore per entrare sotto mentite spoglie. Scopriamo che sia Caradun fa parte della Nuova Repubblica per cui non può essere identificata perché si parla di una sorta di scanner visivo del volto che vedremo successivamente. Unica nota che ancora un po' mi grapchia con la ruggine, me la sono fatta un po' piacere ma ancora non mi torna. Questo è un limite mio ma essendo un limite mio e per certe cose sono un po' ingenuo sostengo che in questa stagione alcune cose andassero spiegate un po' più chiaramente sia per me che per quelli ancora più nubi ma forse quelli ancora più nubi non gli frega un cazzo di queste cose qui per cui sono io che esco dal coro e faccio la figura delle imbecilli. Va bene. Fennec è ricercata ricercata dall'ISB, tra l'altro si nomina l'ISB che è un reparto di spionaggio dell'ex impero, del nuovo impero che è super informato su questo genere di cose. Viene spiegato un po' questa cosa dello scanner. La cosa più divertente è Boba Fett che Mandaliani dice vai tu Fett e lui dice non posso perché riconoscerebbero la mia faccia. Perché riconoscerebbero la sua faccia? Perché Boba Fett è un clone e è difficile non ricordarsi la faccia di migliaia e migliaia e migliaia di soldati che sono stati all'attivo anche anni prima. È comunque una cosa abbastanza storica e per l'impero immagino sia una cosa abbastanza emblematica. Molto bene. Alla fine decide di andare al mandoriano come dicevo, studiano la cosa, si lanciano e riescono insieme a Caradun. Sono in tre. Nota particolare, c'è un piccolo errorino che lo segnalerò nella mia disamina. Quando vanno sotto Caradun entra dentro il cockpit, prende a slappe i due assaltatori che vediamo avere il bellissimo costume da tank trooper, gli autieri imperiali che abbiamo già visto nel film secondo me Rogue One, non ricordo se li abbiamo visti anche nel film solo, quel casco meraviglioso con il visore a dritto paro paro, bellissimo, grigio in maniera diversa, colori diversi in Rogue One li abbiamo visti bianchi e rubano i loro vestiti. Anche questa qui è una citazione vista più e più volte nella saga di Star Wars. Ricordate Luke Skywalker e Han Solo che si vestono da assaltatori, ricordate Finn con DJ, con BB-8 che si vestono anche con Rosa, si vestono da ufficiali del primo ordine per entrare all'interno dello Star Destroyer durante gli avvenimenti di The Last Jedi. Insomma, è una pratica molto comune, l'abbiamo vista in Rebels, l'abbiamo vista in The Clone Wars, è una pratica molto molto comune e la ritroviamo. Vediamo il Mandaloriano per la prima volta vestito con un'armatura imperiale col suo casco senza mostrare il viso e lascia il suo bel borsone da palestra a Cara Deune e dice tienimene conto. Il piccolo errore qual è? Che in questa scena vediamo Cara Deune col suo vecchio blaster, il blaster della stagione 1. Nelle scene successive ha un blaster completamente nuovo e inedito. Ah, errorino, errorino. Vabbè, poco importa. Prendono sto camion, Max Mayfield molto simpatico, gestisce tutta la chiave comica perché questo è il primo episodio della storia di The Mandalorian in cui non appare The Child, non appare Grogu, non appare Baby Yoda. È una cosa abbastanza anomala per cui va avanti da solo, bellissimo ed è comunque un grande episodio senza bisogno del macina soldi che è il piccolo di Yoda. Molto bene. Procediamo. Max Mayfield in questo momento comincia a prendere tantissimi punti come personaggio ma non solo, anche in tutte le sequenze prima. Lo vediamo con una certa espressività, lo vediamo dimostrare una certa paura nei confronti del mando, cosa che non mi aspettavo, una certa sottomissione. Non è proprio a suo agio e trasmette moltissimo questo personaggio, anche nelle battute, anche in tutto il resto. Veramente un signor personaggio e si conferma sempre più potente, sempre più pesante, sempre più approfondito nel mentre, mentre andiamo avanti nella puntata. In questa scena è molto figo, gli fa un discorso sul casco, ma perché non ti togli l'elmo? Che cazzo te ne frega? Ma tu non te lo togli per un discorso di non mostrare il viso o non te lo togli perché non vuoi toglierti il casco? Perché sono due cose differenti, adesso c'è il casco imperiale, quindi che cos'è? Per cui fa tutto questo discorso molto interessante sulla morale, sul perché nascondersi e questo parte dal momento in cui questo juggernaut passa in mezzo a un paesaggio, a un piccolo villaggetto che mi ha ricordato tantissimi villaggetti trovati a Zanzibar in cui ci sono i bambini che giocano per strada. Lui vede appunto questo bambino su questa cassa e lui gli fa questo discorso e non gli interessa niente a loro se tu sei imperialo della Nuova Repubblica. Se comunque a casa loro e a loro gli sta sui maroni. Questo è il discorso molto interessante che ci accompagna anche nelle scene successive mettendoci in difficoltà senza che ce ne accorgiamo. Fighissima sta cosa, forse è stata la parte più bella di tutta la puntata secondo il mio modestissimo parere. Si va avanti, sembra una roba molto leggera ma dopo un po' ci accorgiamo appunto che l'instabilità del ridonio è molto 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 rischiosa perché quando va forte, quando prende delle buche, vediamo questo sensore che aumenta fino a diventare rosso. Oltre il rosso esplode perché è veramente molto pericoloso. Per cui questo è un bel conflitto per portare avanti le avventure, la narrativa che sta succedendo. Poco importa, andiamo avanti dopo un po'. Mentre proseguono per questa strada cominciano a esplodere mezzi a destra e a manca, comincia a salire la tensione e arrivano diversi pirati. Si accorrono di queste esplosioni anticipate che vedono all'orizzonte sono dovute ad assalto, all'assalto di alcune speeder con diversi pirati. Questi pirati sono alieni inediti che abbiamo già visto, anche questi, nella lista dei detenuti della settimana scorsa di Cara Dune. Molto bene, razza nuova, con queste maschere di gomma tra virgolette anche evidenti perché hanno tutte le stesse espressioni perché normalmente la bocca non l'hanno attaccata e si vede tutti che sono così. Combattono così, ma poco importa. Scena d'azione molto molto figa. Qui torniamo all'attacco al treno di Solo, torniamo all'attacco al treno di Inglourious Busters, torniamo all'attacco di Mad Max. Ci sono mille riferimenti, l'immaginazione porta verso questi prodotti qua. Il mando esce con la sua bella tenuta da Tank Trooper, prende a slappe e paccone diversi di questi pirati, molto figo. Hanno questi detonatori, il loro compito è far esplodere questo ridonio. Ma lo spettatore comincia a percepire che questi pirati, che pirati lo dico perché lo chiama il Mandaloriano in questo modo, li chiama in questo modo, in realtà sono i buoni perché sono gli autoctoni, è una razza aliena autoctona che non vuole che l'impero vada a sottrarre le loro risorse più preziose, per cui loro sono i buoni, ma inevitabilmente noi sappiamo che loro sono i buoni, che il Mandaloriano è il buono e parteggiamo per loro, mischiando a un discorso che in realtà parteggiamo per l'impero, quando in realtà non è così. Questo assalto si fa sempre più massiccio, bellissima scena di combattimento, il Mandaloriano dimostra di veramente di essere quello che abbiamo sempre visto nella prima stagione, per cui prende a ceffoni una valangata di questi poveri disperati, fino a che non succede che si stanca, bellissima questa scena che viene preso ammassata nell'armatura, ma lui è abituato ad avere il besker, ma le armature da storm, da saltatore non sono in besker, gli viene distrutta la spallina, gli vengono distrutti i bracciali, diciamo così, e comincia a cambiare metodo di combattimento perché non ha più la fiducia del suo besker, molto interessante, molto fina anche questa cosa, fino a che, esausto, non si accorge che arrivano altri speeder, 3-4 speeder, tutti con il loro detonatore per far esplodere il carico. Cosa succede in questo caso? Succede che nel momento di fine, in cui, ok, stanno per morire, che cosa cavolo succede? Il Mandaloriano si alza, un po' la Capitana America, mi ha fatto anche molto ridere questa roba, forse anche una citazione, mentre si mette così, come per dire, adesso vi affronto per l'ultima volta, arrivano due Tai, la musica cambia, diventa molto allegra perché è il salvataggio, però arrivano due Tai, eliminano parte di questi pirati, Max Mayfield esulta come esulta solo dopo aver distrutto i due caccia alle spalle di Luke Skywalker in A New Hope, e lì dici, figata, sono arrivati i Tai Fighter, ma ti rendi conto che stai parteggiando per l'Impero, perché l'Impero c'è e li sta aiutando. Quando arriva il Juggernaut, arriva alle porte di questa raffineria, vediamo una vagonata di Short Troopers, che abbiamo anche questi visto in Rogue One, assaltatori vari e minatori con i caschetti minatori, che finiscono l'ultima serie di pirati che sono scesi e stavano andando verso la raffineria. Molto bene, i due vengono accolti come degli eroi da questa mandria di assaltatori, bravi bravi, tutti a farsi il saluto militare, molto bello e molto emozionante, ma Max Mayfield, vi ricorda, non sono mai stato così contento di aver visto gli Imperiali. E qui si ritorna con la tensione del, come posso dire, dell'entrare sotto mentite spoglie. Entrano, non mi vengono i termini, abbiate pazienza. Tanno per andare, Max Mayfield va verso la mensa e trova appunto questo terminale che serve per scoprire la locazione di Gideon. Mentre entra Max Mayfield a volto scoperto perché, perché ci viene raccontato dopo, questo terminale scansiona i volti. Questo non è molto chiaro, in realtà si può spiegare, ma comunque è molto molto complicato, è quello di cui vi parlavo prima. Me l'hanno spiegato in un certo qual modo e io lo posso anche capire, me ne rendo conto che può anche aver senso, ma è sempre troppo criptico e superficialmente risultano degli errori. Io sono dell'idea che se tu non spieghi bene una cosa fondamentale, come in una puntata come questa, non la fai capire anche i gibboni muti, significa che qualcosina nella scrittura non vada e l'abbiamo vista più volte. Lasciamola passare comunque perché alla fine se scaviamo un po' lo possiamo capire. Non è più l'impero, è un po' l'impero a pezzi, se vogliamo, spasso per la galassia, sta cercando di rifarsi le flotte, non è proprio al massimo della forma, per cui possono avere dei collegamenti e questo scanner visiona il volto. Per quello va Max, perché il Mandaloriano ha ancora il casco da tank trooper. Appena entra però si accorge che c'è un ufficiale, Valines, mi sembra, che si chiami, che era comando della sua squadra, quindi dice io non so se mi riconosce o meno, io non posso entrare perché ammetti che mi riconosca, siamo nella cacca, ma secondo te mi riconosce? No, non lo so, non lo so, però è un rischio che non voglio cogliere, io sono fuori, si caga addosso, ha sempre avuto paura, ha senso questa cosa qui, mentre se ne va il Mandaloriano dice no, faccio io, ci penso io, e lui dice no, occio perché devi mostrare la faccia. Il Mandaloriano va dentro, cerca di fare tutto con la scassione, si vede che gli scassionano il casco, non funziona, al che si toglie il casco e li vediamo, Pedro Pascal per la seconda volta, per un minutaggio molto alto, lo vediamo spesso e questa cosa mi ha accontentato tantissimo. Arriva il militare, va da lui, cerca di dire l'imperiale, l'ufficiale, ragazzo vieni qui, ragazzo vieni qui, tensione, 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 e qui tutta sta scena ricorda tantissimo bastardi senza gloria di Quentin Tarantino. Si parla del, dopo arriva Max Mayfield, gli salva il culo, il Valines non lo riconosce, si dicono il TK, il numero, insomma c'è tutto questo misunderstanding che viene risolto con una bella bevuta al tavolo per ricordare i vecchi tempi. I vecchi tempi però fanno male a Max Mayfield e qui si parla dell'operazione cenere. L'operazione cenere è un, è l'operazione imperiale, catastrofica, che viene lanciata subito dopo gli avvenimenti della battaglia di Endor, per cui parliamo in un post ritorno dello Jedi, l'abbiamo visto sia nella serie Battlefront, sia in un paio di fumetti che si chiama l'impero a pezzi, molto molto carini, vi consiglio di recuperare, e in altri vari prodotti, ma questi sono un po' i prodotti principali, in Battlefront la vediamo proprio questa operazione cenere che consiste in una sorta di tifoni controllati per distruggere, per annientare vari punti della ribellione, insomma per fare ancora più del danno, poi scopriremo che in realtà è uno dei primi tasselli dell'ordine finale di Palpatine, della creazione del primo ordine e bla bla bla. Max Mayfield faceva parte di questa operazione, lo ricorda con fatica, si vede che comincia ad avere una grande rabbia, perché poi è stato proprio questo Valines ad aver ucciso tutta la sua squadra, tutti i suoi compagni, per cui torniamo a sentirci un po' ad empatizzare con l'impero, per colpa sua, per merito suo, dice eh sì ma sono morti decine di migliaia di soldati, eh ho dovuto fare qualche sacrificio, lui imperiale maledetto, nota importante, lui l'imperiale, l'attore di cui non ricordo il nome, è l'interprete del primo Night King di Game of Thrones, non il secondo ma è il primo, molto figo, la faccia è molto simile, perfetto per fare l'imperiale. Max Mayfield scende la catena, il mandaloniano, ovvero Pedro Pascal, Dean Jarry lo guarda facendogli non fare cazzate, alziamoci, andiamocene via, e invece lui lo uccide, anche qui molto tarantino, comincia la sparatoria, scappano fuori da questa raffineria, che altro non è che una sorta di diga enorme su una cascata su un fiume, mentre escono, ci sono Fennec Shand e Cara Dune che sparano a tutti gli short trooper, tutti gli assaldatori che cercano di prenderli, scappano sul tetto, cominciano a correre, in lontananza arriva la Slave 1 di Boba Fett che era pronto per il recupero, li recupera al volo, non senza difficoltà, ma va bene, saltano giù, saltano sulla Slave 1, si allontanano, Max Mayfield prende il fucile a cicli, ovvero il fucilazzo che aveva Boba Fett dietro, che è un fucile Tusken, spara al ridonio, distrugge la raffineria, molto contento, fa una gran bella figura, se ne vanno, ma mentre se ne vanno arrivano due TIE Fighter dietro e c'è questo piccolo dogfight nei cieli, dentro l'atmosfera, non si va nello spazio, con la Slave che fa dei gran trick, molto figo, Boba Fett è estremamente figo in questo contesto, è sempre Boba Fett, questi due TIE alle spalle e succede una roba che a me è magasata all'inverosimile, una piccolezza, ma questo ritorno che aspettavamo tantissimo tutti i moi fan, cioè viene lanciata una bomba sismica, bellissima, ve la ricordate, The Clone Wars la lancia sempre Jango Fett ai danni di Obi-Wan col suo Jedi Starfighter, stessa cosa, vediamo questa bomba sismica che arriva, esplode senza rumore, silenzio e poi PAM e distrugge i TIE, e così si va verso il fine della puntata, si ritrovano tutti, arriva Max Mayfield, si è cambiato in questo contesto e dice molto bene, portami in galera, ho fatto quello che devo fare, Cara Deun guarda il Mandaloriano, fa finta di niente, dice peccato che Max Mayfield sia morto durante l'attacco alle raffinerie di Moacar, ma non me lo ricordo più, va bene, a questo punto lui capisce che è stato liberato perché si è comportato bene, bellissimo, questo bellissimo momento, lui si vede che alla fine è un imperiale ma c'aveva il cuore d'orio, viene liberato e Cara Deun chiede alla Mandaloriano che cosa dobbiamo fare, adesso sappiamo dov'è Gideon, cambio scena, bellissimo anche qui la transizione alla Star Wars contando di cerchio mentre la Slave va nel cielo, cerchietto che ci porta di nuovo in questo Light Chrysers di questo impero che in realtà si chiama Remnant Empire, cioè quello che rimane dell'impero se vogliamo, un impero, come posso dire, non mi viene la parola, scusate la mia dislessia, un impero che in realtà non c'è, è a pezzi, una sorta di impero a pezzi, se vogliamo, Remnant Empire, dentro c'è Moff Gideon, attivano un bellissimo ologramma dove c'è il mandoriano che fa, che va giù pesante, gli dice ciccio ti spacco la testa, non hai capito con chi è a che fare, un po' il senso è questo e ripete un pelo le parole che ha detto Gideon e secondo me che ha detto anche, devo verificare, il personaggio di Werner Herzog nella prima stagione e si conclude la puntata molto 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 bella, molto professionale, molto cinematica, molto tarantiniana, Rogue One e tutto il resto. Bene, anche per questa è finita, durata tantissimo, vi chiedo sempre scusa, santo di Dio, ci vediamo la settimana prossima per l'ultima grande puntata, dovrei arrivare prima perché mi sono preso ferie per dedicare tutto il tempo a questo finale di stagione, abbiate pazienza e dopo cominceremo a respirare prima di uno tsunami di prodotti infiniti Star Wars e bisognerà capire quanto tempo potremo dedicare a tutto questo idillio che sta per arrivare. Madonna di se sia, un abbraccio, ci vediamo la settimana prossima. Bella voi!